Tortino di asparagi con patate al forno Un gustoso piatto veloce da cucinare, un'ottima idea per una cena in famiglia? Il tortino di asparagi con patate al forno è quello che fa per te. Facile da preparare, è un primo piatto leggero ma ricco di sapore. Le patate, dorate in forno, sono una deliziosa base per l'abbinamento con gli asparagi freschi. Una ricetta semplice e genuina che conquisterà tutti gli ospiti. Ingredienti, asparagi, patate, formaggio grattugiato, rametti di prezzemolo, sale, pepe, olio extravergine di oliva. Preparazione Preriscaldate il forno a 180 gradi centigradi. Lavate e sbucciate le patate e tagliatele a fettine sottili. Lavate e mondate gli asparagi, togliendo la parte finale più dura. In una teglia unta con olio extravergine di oliva, disponete le fettine di patate e gli asparagi a strati alternati. Condite con sale, pepe, prezzemolo e formaggio grattugiato. Ungete il tutto con un filo di olio extravergine di oliva. Infornate per circa 30 minuti, fino a quando le patate saranno ben dorate. Servite caldo. Grazie a tutti.